Badante infedele arrestata dai carabinieri? Sì, un'operazione che ha visto i carabinieri impegnati nella ricerca e nella cattura di una badante che si è resa responsabile di rapina nei confronti, nello specifico, di un anziano ultrontazenne che viveva con la moglie, anch'essa anziana, che purtroppo era costretta a letto. L'anziano è stato non solo picchiato ma anche narcotizzato con dei farmaci che la donna teneva appositamente per narcotizzare la vittima. Nella giornata di ieri, una volta che abbiamo ricevuto la notizia da uno dei figli che ha esposto denuncia, ci siamo messe subito alla caccia della donna e attraverso ovviamente un dispiegamento sia di forze in campo ma soprattutto anche di tecnologia, siamo riusciti a individuare in un casolare di campagna del crotonese la donna che era con altri connazionali. La donna in questo momento si trova ristretta nel carcere femminile di Castrovillari e risponderà ovviamente di rapina e lesioni aggravate. La donna non era la prima azione di infedeltà come badante nei confronti degli anziani? Sembrerebbe di no perché avevamo un telefono che era in possesso della donna che appartiene a un anziano che è stato derubato qui a Crotone. Quindi la donna non sembra essere strana anche ad altri episodi che in questo momento sono sottolente da parte dei militari dell'arma. Noi abbiamo catturato la donna con una valigia pronta sicuramente per lasciare la provincia di Crotone.